Ciao a tutti e benvenuti a questo video di ringraziamento di Magistro Lotus. Questo video, come da titolo, è per ringraziarvi duemila volte per aver raggiunto appunto i duemila iscritti. Siamo davvero contenti, è una cosa che ce l'avevamo prefissati da fare entro il marzo, siamo riusciti perché siamo alla sera del 22, e nulla, quindi vi ringraziamo davvero tantissimo. Da parte mia, di Marco, e anche i due Magistro Lotus che oramai possiamo dire che non sono più principianti perché sono entrati a pieno titolo, e anche voi li avete assorbito benissimo, nel senso che anche loro hanno i video adesso che vengono molto seguiti, molto richiesti, con varie domande, interazioni, quindi davvero grazie anche da parte vostra, perché un mix della loro bravura, ma anche il vostro supporto, ha fatto sì che si tirassero anche su e potessero ingranare la marcia. Come dicevo siamo molto contenti, mi scuso perché sono un po' con la voce così e un po' malmesso, perché noterete che questa settimana avevano fatto uscire video, stavo male io, e i figli purtroppo portano a casa dell'affreddore, in verità non ho avuto niente di che, solo una notte di 38 di febbre e tutto il resto, solo mal di gola, però la voce per il mio lavoro mi serve, quindi l'ho dovuta preservare. Detto ciò, voglio anche ringraziare, in particolar modo, gli abbonati, sia su YouTube, insomma gli abbonati in questa forma, perché supportandoci in maniera ancora più diretta, ci avete fatto sviluppare delle idee che appunto hanno fatto crescere il canale, ancora di più, quindi davvero vi ringraziamo tantissimo. Ovviamente anche le persone che ci seguono e basta, le ringraziamo, sia ben chiaro qua ovviamente, però c'è il surplus che, aiutandoci direttamente, abbiamo potuto sviluppare appunto le idee che avevo prima. E poi ringrazio anche la nostra prima partnership, cioè Fantasia Store, che ha creduto in noi, per ora sta continuando a credere in noi, e speriamo che sia un rapporto duraturo, perché appunto il fatto di avere adesso un brand come loro, tosto, forte, in Italia, che, insomma, ci dà una specie di brand, una specie di mark di qualità, un marchio di qualità, e viceversa, perché appunto loro credono in noi e noi crediamo in loro, nel senso che loro hanno puntato su questo canale, che noi siamo piccolissimi rispetto ad altri, però hanno detto proviamo comunque a interagire con loro, e noi abbiamo accettato, perché, come abbiamo già detto nel video di presentazione, vogliamo solo portare contenuti di qualità, ma non solo nei video, ma anche con chi cooperiamo, e quindi quale miglior cosa, se non in questo momento una cooperazione con loro. Speriamo di averne con loro duratura, e anche altre, sempre di qualità, con altri partner che vorranno adunirsi in futuro. Non voglio però finire questo video solo con ringraziamenti, voglio finirlo con un piccolo spoiler, che ci sta, perché almeno così sparsi, no? E' meno banale, perché comunque sì, per carità, il video di ringraziamenti ci sta, però capisco che per chi ci segue dall'inizio possa essere, tra virgolette, banale. Poi vabbè, per noi non lo è mai, perché ci teniamo davvero tanto a farlo. E lo faremo anche per i 3.000, 4.000, cioè lo faremo sempre. Però vabbè, comunque. Lo spoiler è, un'attività, non dico cosa, perché deve uscire il post, di Community, che riguarda la prossima espansione di Universities Beyond, che è quella del Signore dei Anelli. No, vi dico cosa, ripeto, perché deve uscire il post, volevo farlo uscire all'inizio settimana, questa, quella del 22, ma non ce l'ho fatta, perché di nuovo stavo male, volevo seguirla al meglio, perché io a casa, in questi giorni del canale, facevo davvero poco, infatti sono in pietrissimo, e però, entro questa settimana, quindi, fine questa, inizio prossima, uscirà questa novità. Anche se il set uscirà poi a giugno, perché ripeto, non è una cosa che riguarda il set in sé, ma un'attività di canale. Quindi, vi lascio con questo piccolo spoiler, vi ringrazio di nuovo tutti quanti, tutti quelli che ho citato, e anche quelli che ho non citato, perché magari mi sono dimenticato, fino adesso, e, boh, speriamo di rivederci di nuovo in un video del genere, ma a 3.000, poi 4.000, 5.000, 6.000, 7.000, fino ad arrivare al milione di iscritti. Detto questo, ci vediamo alla prossima, e ciao ciao, fate i bravi.